Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, venerdì 30 ottobre, si venera San Germano di Capua. San Germano è stato Vescovo di Capua ed è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e da altre chiese cristiane che ammettono il culto dei Santi. Nato nel V secolo da famiglia agiata, Germano, dopo la morte del padre, si privò dei suoi beni per darli ai poveri. Divenne Vescovo di Capua nel 516 e fu amico di San Benedetto. Le notizie che abbiamo di San Germano provengono dai dialoghi di San Gregorio Magno. In essi sono riportati alcuni episodi della vita di Germano avvolti nella leggenda, come l'episodio della liberazione dal purgatorio del diacono Pascasio, che gli si era presentato come il custode della sorgente delle acque termali di Agnano, dove San Germano era andato a curarsi. Narra ancora Gregorio che, alla morte di Germano, San Benedetto vide che gli angeli portavano in cielo la sua anima. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, dai siti della Repubblica e del Corriere. Iniziamo con la Repubblica.it che apre con la sfida di Marino, resto ci vediamo in aula ma si riapre il fronte, note spese è indagato. Il PD ai suoi consiglieri lasciate il Campidoglio e gli scenari a caccia di sei firme dell'opposizione, IRA di Renzi contro Orfini. Ed ancora andiamo avanti, Tangenti Treni è arrestato il presidente della rete ferroviaria a quel filo tra i padroni della Sicilia e Roma. I magistrati, lo bosco, intascò 58 mila euro trovato libro mastro delle mazzette. Fermato a Bologna, il presunto killer dei due giovani uccisi in strada a Roma e il duplice omicidio lunedì scorso. Ad Aversa crolla solaio in facoltà di ingegneria, operaio muore sotto le macerie. Melito, a Melito, in provincia di Reggio Calabria, donna uccisa dalla figlia, 17enne, le aveva vietato cellulare e PC. Continui rimproveri, andava male a scuola. E vediamo ancora a Messina, Messina senza acqua da giorni. L'appello diventa virale sui social. Renzi furioso, è una vergogna. Sesto giorno consecutivo di crisi idrica per una frana che ha colpito l'acquedotto di Fiume Freddo. Il sindaco, il comune e parte l'ESA. Via da scuola, bimba malata di IDS. Giannini assicura tornerà in classe campania, rifiutata l'iscrizione alle medie. Teheran, restato altro imprenditore americano di origini iraniane, lo scrive il Wall Street Journal, mossa dei falchi del regime. Ed in Cina, stop a politica del figlio unico, le coppie potranno avere due bimbi, la stretta sulle nascite in Cina risale al 1979. USA, ricercato per assegni scoperti, il figlio del ministro degli esteri francesi, Fabius, accusa per 3,5 milioni di dollari. In Florida, un Boeing prende fuoco in pista per perdita di carburante, 14 i feriti. La sfida del presepe che divide Madrid, il Natale di tutti, l'ira della destra, il sindaco, il comune non è dei cattolici, c'è l'ipotesi di trasferire la mangiatoia. Ed ancora lo strappo di Cantone, potrei uscire dall'ANM, il capo ANAC, mai fatto politica, dichiarato è ancora Donciotti a Roma, troppa antimafia, solo ha parole. Unioni civili, nuovo scontro nel governo, Alfano e Orlando, totale disaccordo, il ministro legge subito e sì ad adozioni gay, lotti del PD, non esclude nuove maggioranze. Il caso, noi sposati cinque volte con due figli ma senza diritti. Renzi e Icastro, intesa con Raul e freddezza da fidele, leader non l'ha incontrato, il premier non abbiamo insistito. Ancora Forza Italia senza soldi, chiude la sede di San Lorenzo in Lucina, Berlusconi, finite risorse. Tangenti ANAS, nuove intercettazioni, da Manera sparisce, gli chiudiamo pure acqua. E ancora a Malpensa, procura indaga su sospetti fondi neri per nuovo trenino tra i terminal e la crisi, i vescovi promettono, per giubileo aiuteremo le famiglie a pagare le bollette. Ed ora passiamo al Corriere della Sera, il sito del Corriere, vediamo ancora in apertura e quindi le notizie ancora dal mondo e le notizie nazionali. Vediamo come apre il Corriere, eccoci ancora la crisi in Campidoglio, Marino ritira le dimissioni, il PD ai suoi consiglieri via in massa, ha fatto bene e la possibilità di votare sul sito del Corriere della Sera. Vediamo ancora in basso il Corriere del Mezzogiorno, aversa, crolla solaio della Facoltà di Ingegneria, morto un operaio a 17 anni, uccide madre nel sonno, le aveva vietato PC e cellulare. Ed ancora, tutte notizie che abbiamo già visto sulla Repubblica, l'inchiesta a Palermo, tangenti, arrestato il presidente di Rete Ferroviaria Italiana, ai domiciliari, quindi Dario Lobosco. Ed ancora il Tarre, il compenso nascosto, ma il costo è di almeno 4 milioni, e a Sora, delitto Palleschi, l'assassino della Prof, condannato all'ergastolo. Cina, addio politica figlio unico, ogni coppia potrà avere due bimbi, la svolta epocale. Il progetto fotografico, Cina, la solitudine dei figli unici e i cloni, il progetto due di noi. I grandi numeri della Cina e le trappole sulla sua strada, dopo tre decenni di crescita sostenuta, la seconda economia al mondo ha rallentato quali sono i rischi economici e geopolitici, riportati appunto sul Corriere. E vediamo ancora Hawaii, coppia lesbica finisce in manette per un bacio in pubblico. Due giovani donne si scambiano effusioni in un supermercato, un agente protesta, poi le arresta per oltraggio. Le due denunciano, costrette a vivere come barboni per cinque mesi. A Bari finisce in rissa il convegno No Gendier, spintoni e minacce di denunce per l'iniziativa di un avvocato che si definisce omofobo. E ancora Messina, Messina senza acqua, da sabato, quindi il sesto giorno, in rete protesta anche Fiorello, città secco dopo la rottura dell'acquedotto, Renzi una vergogna. L'appello notturno di Fiorello, ditemi perché siamo senza acqua e le polemiche e le ironie sul web in fila alle fontanelle rimaste. La rabbia dei messinesi, ancora città all'asciutto, negozi chiusi e nei ristoranti non si serve pasta. I cittadini in coda alle cisterne per riempire le taniche, inconcepibile essere ridotti così. Non possiamo farci una doccia né cucinare, le autobotti abusive affiancano quelle autorizzate, intanto scatta l'allerta meteo. E vediamo ancora il progetto per il giubileo, l'aiuto anticrisi dei vescovi, pagare bollette a chi non ce la fa. Il direttore dell'ufficio per la pastorale della famiglia della CEI, Gentile, ha detto la misericordia come condono del debito allo studio a un progetto per dare sollievo nei pagamenti di gas, luce e telefono. L'annuncio in tv è riportato in video sul Corriere. E in Florida l'aereo per il Venezuela prende fuoco in pista, 14 feriti. Un Boeing di una giovane compagnia venezuelana perde benzina dal motore, evacuati con gli scivoli passeggeri per Caracas. Non partono più aerei delle linee maggiori a causa dei mancati rimborsi da parte del governo. E vediamo ancora in basso De Magistris, Milano capitale morale, Cantone, Nondia, Pagelle. Il sindaco di Napoli arrivando all'Assemblea del Lanci a Torino ha contestato le parole del presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. Ed ancora Telecom, al francese Niel, l'11%, il miliardario di internet, chi è? La quota acquistata dal miliardario ha un valore di 1,7 miliardi. Il primo socio, Vivendi, che fa capo a Balloré, si dice sorpreso dalla mossa. E adesso ci fermiamo con i siti, passiamo al messaggero, continuando con le notizie nazionali e dal mondo. Vediamo come apre oggi la prima pagina, sicuramente con la notizia di Marino che resta quindi e non lascia più la sua posizione da sindaco. Eccoci in apertura, ecco Marino resta, ma il PD è finita, il sindaco ritira le dimissioni, confronto in aula, ma 19 consiglieri dem annunciano l'addio anche ai voti della lista Marchini per far decadere il consiglio. Renzi pronto il commissario. Vediamo in centropagina, dopo 35 anni il limite demografico sale a due bimbi per coppia, la svolta in Cina via l'obbligo del figlio unico. Telecom, assalto dei francesi, Consob indaga, il re di internet Niel ha opzioni per l'11%, faro sui rapporti con vivendi già al 20%. Entriamo all'interno del messaggero, quindi in primo piano la giornata, Marino si barrica e ritira le dimissioni via i consiglieri PD, 26 per lo scioglimento, la giunta si sfalda dopo l'annuncio, vertice al Nazareno per far dimettere i 19 eletti. Decisiva la lista Marchini, oggi lo showdown. E vediamo nel taglio basso l'azzardo del chirurgo per il dopo, io, l'anti Matteo, al congresso Dem, la strategia, la rete tra i sindacati scontenti, la solidarietà del palermitano Orlando. E vediamo nel sommario, non voglio distruggere i Democrat, ma neppure farmi cacciare con ignominia. E vediamo ancora, Renzi sferza il partito, pronto il commissario, questi retroscena il leader, osinazione incomprensibile, chi sostiene Ignazio per me è fuori dal PD. Se viene confermato l'addio, già stamane le nomine di Gabrielli, intanto Frattasi è il favorito. Ed ancora caos PD, processo Arfini, poi la spallata al sindaco Ira di Renzi, Matteo ha sbagliato tutto, Anzalti interstardito a difendere Marino, vertice fiume, consiglieri divisi sull'addio, a tarda sera l'annuncio hanno firmato tutti. E ancora in retroscena, Berlusconi prepara il dossier su Roma e chiude la sede di Forza Italia, il Cavaliere riunisce i coordinatori regionali, da dicembre Forza Italia lascia San Lorenzo in Lucina. Vediamo ancora nella pagina a fianco il personaggio tra gaff, errori e sfide, le acrobazie del marziano. Dopo due anni sempre sul filo dell'antipolitica, i 20 giorni più pazzi del mondo, dall'inseguimento del Papa fino in USA alla riscoperta del mito cechevara. E vediamo nel taglio basso, inchiesta Onlus, la procura smentisce l'archiviazione. In serata l'assessore Alfonso Sabella spiega il suo addio, sgradevole essere assessore con un sindaco accusato di peculato. Ed ancora, strappo di cantone, potrei lasciare, l'AN, presidente dell'autorità anticorruzione, respinge le accuse di essere troppo vicino alla politica e pensa di uscire dal sindacato. Le critiche ricevute mi fanno sentire come un pugile che ha preso un pugno, ma questa è la mia casa. Replica Sabelli, se vuole vada. E lo scontro sulle unioni civili e lite nel governo, alto là di Alfano, dal Viminale lo stop al ministro Orlando, favorevole alle adozioni gay. Lotti, ok, alla legge con nuove maggioranze. Ed ancora le interviste a pagamento, alto là della RAI, dopo il caso Varfakis, a che tempo fa, stretta di Viale Mazzini, vietato anche alle società esterne pagare i politici. Il Renziano, Anzaldi, la direttiva non basta, ora verifiche sugli appalti, la replica di Endemol, portiamo pubblicità. E vediamo ancora in primo piano il provvedimento, dirigenti pensioni e CAF, la manovra può cambiare, primo vertice di maggioranza al Senato, emendamenti sui funzionari delle entrate, flessibilità, spunta l'ipotesi di inserire in Parlamento il prestito pensionistico. Ed ancora vediamo statali, tagli di produttività, sale la protesta nei ministeri, e controlli, fisco, inviati altri 65 mila avvisi per mancate dichiarazioni IVA. E ancora dal mondo, la rivoluzione in Cina, Dio al figlio unico, la svolta del partito comunista dopo 35 anni di regime, di limitazione delle nascite, consentiti due bimbi per coppia, la decisione presa per contrastare l'invecchiamento della popolazione e per ridare slancio alla produzione economica. L'obiettivo è di avere maggiore mano d'opera, il regime demografico adottato finora ha limitato le nascite di almeno 400 milioni. Ed ancora la denuncia, corruzione a aborti e delitti, ecco come si aggiravano le regole in campagna, tutti volevano un maschio utile per lavorare, le femmine venivano eliminate, così ora mancano le donne. ed ancora arrestato il presidente della rete ferroviaria, c'è il libro delle tangenti, Palermo, nomi e mazzette nel registro di un imprenditore, lo bosco avrebbe preso 58 mila euro ai domiciliari due funzionari della forestale. È finito nel mirino un appalto da 26 milioni, dati soldi al capo di della rete ferroviaria italiana per fare acquistare un prototipo. E a Messina, Messina senza acqua, il caso, l'ira degli abitanti, una frana danneggia l'acquedotto che garantisce la fornitura idrica a quasi tutta la città, Rubinetti a secco da molti giorni, rabbia dei cittadini in coda alle autocisterne, tempi lunghi per riparare il guasto, Renzi accusa una vergogna e invia l'esercito. Le tappe della vicenda, prima il crollo, poi i disagi e gli appelli di Fiorello via web. L'emergenza, il dramma dei disabili e anziani, c'è chi ricorre al mercato nero, caccia bidoni e bottiglie da riempire alle autobotti, nessuno pensa alle persone non autosufficienti. Ed ancora negozi e uffici chiusi, le previsioni meteo prevedono, ma al tempo contestato anche il sindaco a Corinti. Andiamo ancora avanti, ecco nelle cronache il delitto basta pc e cellulare, la figlia di 17 anni la uccide. Nel sonno, shock in Calabria, studentessa accusata di aver sparato la mamma che le rimproverava lo scarso rendimento a scuola. Il delitto a maggio ancora ha agito con lucida freddezza, la donna era infastidita dal troppo tempo passato sulle chat dei social da parte appunto della figlia. Il processo Bertolaso a giudizio per omicidio colposo, l'ex capo della protezione civile sotto accusa nel procedimento sul sisma dell'Aquila. E ancora sospetti sulla COP degli attori, fondi bloccati a Roma. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata all'economia, duello francese su Telecom Italia. Come abbiamo visto anche prima, ecco la disputa, titola così, il miliardario Niel si prenota all'11,2% attraverso opzioni e derivati che possono essere trasformati in azioni entro il 2017. Il Blitz lascia presagire una battaglia con Vivendi che possiede il 20%, faro consog sui rapporti tra i due, l'ombra di Berlusconi. E il negoziato, infine, vediamo il gruppo di Telecom, appunto, rifinanzi, si ha 7 miliardi, chiesto a 30 banche di spostare le scadenze di due prestiti di riserva, risparmio di 25 milioni, disponibilità da parte degli istituti di credito. Il personaggio, qui in breve, uomo d'affari atipico, quarto operatore TLC in Francia, e quindi delle telecomunicazioni. Con la pagina dell'economia ci fermiamo con la prima parte della nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org sempre con noi per aggiornarci, appunto, sulle condizioni meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, Giovanni, quali aggiornamenti ci dai? Diciamo che la nostra penisola è ancora interessata da un'intensa perturbazione che in queste ultime ore sta dando luogo a precipitazioni diffuse anche sulla nostra regione, ma su gran parte delle regioni centro-meridionali. Nelle prossime ore cambierà di poco la situazione. Questa figura depersonaria posizionata sul basso tirreno gradualmente ci sposterà ulteriormente verso sud e ciò favorirà comunque un lento e progressivo un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire soprattutto dalla seconda metà della giornata e ancor più nel corso del fine settimana. Ma in mattinata ci sarà spazio ancora delle precipitazioni che saranno più intense sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul vessante orientale dove ci saranno anche dei banchi di nebbia mentre pian piano su lungo la fascia costiera i fenomeni inizieranno ad attenuarsi ad essere meno frequenti soprattutto dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio sono previsti anche nevicate al di sopra dei 2.200 metri poi pian piano le temperature diminuiranno perché sono in arrivo masse d'aria più fredda dai vicini Balcani e quindi di conseguenza la quota neve potrebbe scendere più in basso ma lievemente più in basso per interessare le zone montuose al di sopra dei 1.800-2.000 metri comunque questa situazione ripeto pian piano tenderà a migliorare attenuarsi quindi la perturbazione si sposterà e nel fine settimana assisteremo a un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ciò vuol dire che comunque nella giornata di sabato e forse anche nella mattinata di domenica saranno presenti ancora degli annuvolamenti sul settore orientale della nostra regione più frequenti sulle zone pedemontane e colinari che si affacciano sul versante adriatico poi pian piano la situazione migliorerà e probabilmente nel corso dei primi giorni della prossima settimana assisteremo alla rimonta di una vasta area di alta pressione su gran parte dell'Europa centro orientale di conseguenza la nostra penisola sarà protetta dall'arrivo di perturbazioni il tempo migliorerà ma tuttavia non si escludono formazioni di banchi di nebbia sulle zone di pianura e sul versante orientale della nostra regione quindi tempo e miglioramento almeno nei primi giorni della prossima settimana almeno fino a mercoledì poi probabilmente insomma ma qui poi allunghiamo un po' il discorso e le perturbazioni atlantiche torneranno a far visita alla nostra penisola ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti Elisa certo certo Giovanni grazie ti auguro una buona giornata e buon lavoro soprattutto grazie Elisa una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 e io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo e il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma eccolo in grafica potete così postare commenti porre domande insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche perché il nostro Giovanni De Palma è sempre al lavoro e adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria tra poco eccoci rientrati alla seconda parte di mattino 6 continuiamo con la nostra rassegna stampa però passiamo alle notizie regionali con le prime pagine delle quattro edizioni del centro iniziamo dall'edizione dedicata alla provincia di Pescara ecco la prima pagina travolto e ucciso mentre va in bici cuoco e musicista di Rocca Morice investito in Olanda aveva 51 anni in centro pagina la fotonotizia Maravalle intercettazioni al vaglio eccolo in aula con la moglie e nelle crona che ha si attrezzato nuova grana piove cemento sempre in Pescara spara da casa contro i drogati nel parco in Montesilvano e Penne ladri scatenati colpi a Penne e Montesilvano vediamo ora la prima pagina dedicata invece alla provincia di Chieti vediamo la prima pagina dedicata a Chieti Lanciano e Vasto che apre con Angelini rischia 10 anni di pena Chieti oggi la sentenza del crack Villapini PM chiedono il massimo e a Vasto automobilista salvo per miracolo trafitto dal guardrail per un cinghiale nelle cronache in Vasto Contrattopoli in Comune patteggia due anni in Lanciano corsa sindaco il vice valente sfida pupillo in Chieti Ateneo addio al libretto degli esami sparisce un simbolo vediamo ora la edizione del centro dedicata alla provincia di Teramo eccola di Stanislao rischia il posto all'ASL l'ex deputato ha anche un'impresa parte la procedura disciplinare e la fotonotizia calcio il grande salto di Massimo da Torano alla Juventus nelle cronache in Silvi identificato l'accoltellatore di Silvi in Teramo tre condanne per il sesso nel night club sempre in Teramo fatture false alla scuola calcio in nove a giudizio ed ancora vediamo la ultima prima pagina e quindi la edizione del centro dedicata alla provincia di L'Aquila Avezzano e Sulmona vediamo come apre eccoci in apertura allerta sisma Bertolaso a processo l'Aquila l'ex capo della protezione civile imputato di omicidio colposo in centro pagina la fotonotizia così come nella precedente edizione quindi di Massimo dall'Avezzano che passa alla Juve e nelle cronache invece in Sulmona Giuseppe è ucciso con un colpo alla testa in Avezzano ronde notturne di polizia locale contro i furti in L'Aquila precaria casa comune in tilt in vari settori ed ora passiamo invece dal centro al quotidiano della provincia di Teramo la città vediamo in apertura cosa riporta oggi la città ecco la notizia del appunto piccoli diavoli usati per l'evasione le sponsorizzazioni gonfiate con fatture false 9 a processo per l'ex settore giovanile del Teramo e in centropagina triconto contro Teramo servono solo per ingannare il Tar si parla del blef delle sale parto sale parto dell'ospedale di Teramo che verranno lo ricordiamo in una parentesi saranno inaugurate nella mattinata di oggi ed ancora Tortoreto trema per un buco in bilancio i cittadini non pagano i muettasi manca oltre un milione entriamo all'interno vediamo la pagina dedicata alle notizie regionali l'Aquila grandi rischi bis Bertolaso va a processo l'ex capo della protezione civile accusato di lesioni ed omicidio colposo nel secondo troncone dell'inchiesta ambiente asso mineraria nessuno stoppa le trivelle dalle autorità croate intanto l'amministrazione comunale di San Salvo ricorre al Tar del Lazio contro la realizzazione di Ombrina Mare e all'Aquila la senatrice Stefania Pezzopane è protagonista di un video musicale la parlamentare abruzzese compare nel filmato della canzone del cantatore campano Cristian Paladino Entriamo ancora all'interno vediamo l'inchiesta dei piccoli diavoli usati per evadere il fisco 9 a processo per le false sponsorizzazioni del settore giovanile convenzionato con il Teramo Calcio fino al 2011 gli imputati coinvolto l'ex responsabile della società dilettantistica e 8 imprenditori che sponsorizzavano sport dilettantistici sponsorizzazioni milionarie 30 denunce tra Ascoli e Teramo ed ancora giudiziari a droga e rapine l'ex brigadiere sceglie il rito abbreviato e accusato di complicità con una banda che spacciava droga e metteva a segno rapine ed ancora punti nascita e con l'inaugurazione delle sale parto Atri denuncia e solo un blef ancora avanti vediamo Monticelli che attacca il manager Fagnano auxologia e centro per la fibrosicistica a rischio col ridimensionamento di Atri Marcone Felicioni intanto i lavori di ampliamento del punto nascita di Teramo non sono affatto conclusi lo sappiamo da una fonte interna all'ASL hanno dichiarato ed ancora sociale Teramo in graduatoria più disabili assistiti e meno ore d'assistenza andiamo ancora avanti vediamo il futuro della sanità Teramana non è ancora scritto così Mariani interviene in commissione per difendere l'assessore Paolucci sui tagli appunto alla sanità e l'ennesimo investimento nella città investita sulle strisce pedonali alla Cona la vittima è grave ma non corre pericolo di vita degrado urbano d'Alberto del PD da ragione a Ranalli il verde pubblico era meglio con Team il consigliere critica l'abbandono e i costi di gestione ed ancora gelo tra Brucchi e Dodo dopo i mugugni il peperoncino del sindaco non calma il mal di pancia del consigliere che chiede l'azzeramento di giunta e tagli alle indennità viabilità dopo sette mesi il comune pensa all'orologio ai varchi troppi teramani multati in ZTL per avere superato le barriere con qualche secondo d'anticipo Cartecchio cimitero riaperta una parte del parcheggio solo per la festività dei defunti ed ancora impianti sportivi il comune ci riprova col bando pubblicata la gara ad abbinamento per mettere ordine dopo due anni di caos nella gestione dei palazzetti cimitero di Cartecchio il tappo ai loculi arriva dopo 30 anni anche qui questa è la denuncia ed ora vediamo la pagina dedicata alla provincia sesso al night freeway 2 tutti condannati 4 anni e 2 mesi per Camillo Fratini il figlio Fabrizio la sua fidanzata Francesca Amici sfruttamento della prostituzione è l'accusa più pesante appunto per i tre gestori Camillo Fratini è stato però assolto dall'accusa di violenza privata che gli veniva contestata da una delle ballerine del locale giudiziari ancora mazzette per l'impianto biogas di Ancona un imputato processato a Teramo la posizione dell'imprenditore Marco Maracci è stata stralciata e verrà esaminata dal Tribunale di Teramo a Montorio negozi del centro storico abbandonati dall'amministrazione comunale i pentastellati invece di essere aiutati costretti a pagare cifre esorbitanti per l'occupazione del suolo pubblico ed ancora vediamo Tortoreto oltre un milione di buco in bilancio i cittadini non pagano imu e tasi rischio paralisi per l'amministrazione in Val Vibrata trovato con mezzo chilo di ascisce condannato ad un anno e nove mesi Nereto ancora un convegno sul ruolo della famiglia in una società multiculturale è sempre a Tortoreto sei pareri favorevoli per l'antenna contestata il sindaco non si tratta di un regalo fatto all'azienda ma di un dono ricevuto ed ancora in Giulianova picchia il controllore sull'autobus ragazzo 21enne di Giulianova beccato senza biglietto a Pescara è ancora il caso bus rotto studenti disabili costretti a restare a casa nuovo di servizio per il trasporto scolastico chieste le dimissioni della Cameli sempre a Giulianova domani l'apertura del 17esimo anno accademico si tratta dell'università della terza età ed ancora associazioni il comune cerca un presidente per il primo forum cittadino sempre a Giulianova l'ospedale va verso il declassamento Iwan Costantini lancia l'allarme diventerà una struttura sanitaria di base a Roseto porta a porta esteso a tutto il territorio iniziativa iniziata la rimozione scusate dei cassonetti a Colonia e Montepagano a giorni il servizio sarà completamente operativo e vediamo ora il progetto visite gratuite per i bambini per prevenire il rischio scoliosi capire in tempo se un bambino è colpito da scoliosi è determinante e per questo ieri appunto è stato presentato il progetto un progetto della struttura sanitaria Radio Sanit in collaborazione appunto con il comune di Roseto per la prevenzione vediamo il contributo video la scoliosi giovanile colpisce dal 12 al 21 per cento dei bambini fra i 4 e i 10 anni spesso con un inevitabile destino chirurgico oggi grazie al progetto prevenzione scoliosi iniziativa organizzata dalla struttura sanitaria Radio Sanit in collaborazione con il comune di Roseto degli Abruzzi sarà favorita gratuitamente la diagnosi precoce della patologia attraverso una campagna di prevenzione che verrà attivata in tutte le scuole questo progetto nasce grazie alla Radio Sanit che è molto sensibile ai progetti di prevenzione si tratterà praticamente di una prevenzione di tipo primaria cioè saranno individuati tramite una visita medica specialistica che verrà fatto praticamente un esame obiettivo completo per la scoliosi per le deformità posturali del bambino e laddove saranno individuati dei bambini che hanno un inizio perché proprio perché la fascia d'età tra i 8 e i 10 anni e quella dove iniziano le prime deformità della colonna saranno individuati i bambini e verrà praticamente instaurato un progetto riabilitativo volto a poter fare in modo che si riduca la probabilità che questa patologia possa evolvere o addirittura laddove è possibile poterla arrestare metteremo in atto una campagna pubblicitaria per far sì che le famiglie possano mettersi direttamente in contatto con la struttura Radiosanet che ringrazio confidiamo nella possibilità di fare altri progetti simili e faccio un'apertura a tutti coloro che possano essere di aiuto per fare campagne di prevenzione di questo genere quindi massima apertura da parte dell'amministrazione comunale e confidiamo nel fatto che ci possano essere altre situazioni da sviluppare penso ad esempio a problematiche legate ai denti e ad altre cose di questo genere quindi siamo aperti veramente a tutti e confidiamo nella riuscita di questo progetto ed ancora vediamo nel taglio basso il convegno i giovani imprenditori incontrano la Coldiretti organizzato per illustrare il piano di sviluppo rurale della regione Abruzzo ed ancora andiamo avanti cronaca Silvi rintracciato l'accoltellatore di Silvi si tratta di un sessantenne disoccupato residente in città la lite sarebbe scoppiata per una parola di troppo tentato omicidio questa è l'accusa di cui dovrà rispondere il sessantenne che ha ferito ad un fianco il 34enne di Silvi Marina olio d'oliva due giornate alla scoperta dell'oro della città Ducale ad Atri e ancora vediamo a Pineto Benigno Dorazio ricorre anche al Consiglio di Stato l'ex presidente del parco a punto marino non si arrende e va avanti nell'azione legale per cercare di tornare al suo posto ed ora passiamo al torniamo al messaggero per vedere le notizie regionali quindi passiamo alla pagina dedicata alla regione Abruzzo vediamo la prima pagina del messaggero oggi come apre eccoci si parla del processo per Bertolaso l'Aquila il GUP rinvia a giudizio l'ex capo della protezione civile prima udienza il 20 novembre l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni per le rassicurazioni prima del terremoto ed ora vediamo ancora nella prima pagina il progetto ponte del cielo la capitaneria vuole il bagnino pescara la prescrizione al comune tuffi vietati se non ci sono addetti alla sicurezza la fotonotizia giorno e notte stasera l'auditorium della finanza Brignano recito per l'Aquila e per la vita entriamo all'interno vediamo grandi rischi bis Bertolaso quindi rinviato a giudizio l'ha deciso il gruppo del tribunale dell'Aquila Buccella è accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni Regione Sanità in commissione scontro sul piano Forza Italia e Movimento 5 Stelle solo danni Paolucci solita Litania ha dichiarato e vediamo ancora la visita all'Aquila l'ambasciatrice di Francia per il restauro delle anime sante prima pagina dedicata all'Aquila la dolce condanna confermata per i isolatori sismici la corte d'appello ribadisce quanto stabilito in primo grado nei confronti del professore accolta in pieno la tesi sostenuta dall'accusa si è trattato di frode nelle pubbliche forniture ed ancora vediamo ristrutturazione della questura tutti assolti per quanto riguarda la notizia il sommario diciamo nella fase delle indagini preliminari alcuni pezzi furono esaminati a San Diego puntellamenti riga replica al veleno accialente basta scaricare le responsabilità progetto case morosi c'è il piano di recupero rate in base al reddito Isee ed ancora il bando per la gestione del Gran Sasso partita a due finora sono giunte le proposte di un importante gruppo romano e di una impresa di minore forza vediamo ancora all'interno sul Mona alla Magneti Marelli controlli della ASL dopo la denuncia FIOM le ispezioni effettuate dal settore prevenzione e sicurezza hanno interessato il reparto saldature dello stabilimento nella Marsica preso marocchino latitante luco borseggio in piazza ad Avezzano sorveglianza notturna al via ci sono anche 48 telecamere ed ancora sempre in Avezzano avvocati senza maggioranza vince Franco Colucci fratello dell'ex presidente ma occorre trovare l'unità per difendere il tribunale pagina dedicata a Pescara spara con il fucile ai vicini mentre in casa agli arresti Gianni di Pietrantonio con due amici aveva deciso di divertirsi in quel modo nel mirino anche i tossicodipendenti che stazionano appunto nella zona di via Tavo e ancora orario il diario del sindaco alta fiducia della gente in chi guida le città lo rivela a Lanci un'indagine e stimoli forti per Alessandrini diviso tra procura assemblea e musei e lo scontro politico il comune si tutela per l'asse intanto un pilastro perde pezzi quindi parliamo del crollo dell'asse attrezzato prosegue l'inchiesta civile appunto e il perito del tribunale avrebbe ravvisato responsabilità dell'ANAS ma anche del comune vediamo anche su questo articolo il contributo video di Paolo Renzetti l'asse attrezzato ha riaperto la situazione sta tornando alla normalità però c'è un'inchiesta civile per accertare le responsabilità di quanto accaduto il comune potrebbe essere anche parte lesa in questa vicenda e poi quali sono le novità nel momento in cui l'ACA ha chiamato in giudizio l'ANAS si è cautelata costituendosi anche il comune in questo giudizio in più ha chiamato in causa anche l'assicurazione per eventuali risascimenti che dovessero derivare alle aziende lì presenti e alle infrastrutture che sono andate perse oggi c'è il deposito di una perizia da parte del CTU nominato dal tribunale che proprio adesso stavo tentando di leggere lunghe 90 pagine per comprendere di che cosa si tratta anche se la vocatura già ci ha messo al corrente che il CTU sembra adombrare responsabilità sia in capo all'ANAS ente gestore della strada e sia nei confronti del comune per un aspetto risalente alla progettazione dell'opera e quindi stiamo parlando degli anni 2000-2001 molto probabilmente il consigliere Sospiri che porta un nome importante se avesse solo riflettuto su che cosa il CTU cita in questa relazione molto probabilmente non avrebbe avuto questa brutta uscita e questa caduta di stile poiché quello che viene rimproverato al comune è la progettazione di quell'opera cosa dire ci attiveremo come comune a prescindere dal colore politico perché gli interessi della collettività siano salvaguardati ci attiveremo affinché chi ha subito danni sia risarcito chi ha commesso errori risarcisca per gli errori che ha commesso vediamo ancora nel taglio basso il progetto Ponte del Cielo tuffi vietati senza il bagnino la capitaneria detta prescrizioni per la sicurezza Marcello Antonelli chiede l'intervento della sovrintendenza all'uvione 2013 arrivano i soldi per la bonifica a Montesilvano ed ancora vediamo all'interno della pagina dedicata delle pagine dedicate a Pescara Danelli neopresidente di Confcommercio con l'ombra di Ardizi l'ex numero 1 resta vicario conservando pieni poteri il successore delega i giovani tutti al lavoro per la ripresa e vediamo in centropagina linea dura a caffine dei giochi sui pc negli uffici giro di vite dell'azienda dopo il caso dell'impiegato che giocava al solitario commercio le nuove licenze tolgono il bagno vale per attività che non fanno somministrazione Gian Pietro porta in consiglio la delibera centro estero gli imprenditori studiano Dubai molto seguito il seminario alla Camera di Commercio opportunità in molti settori e vediamo ancora Pescara metropolitana mala scatenata furti a raffica la gente va dai vigilantes non si ferma l'ondata di colpi in tutta la zona di Pescara e questo aumenta la richiesta di aiuto alle guardie giurate e ancora Jimmy Croce dell'istituto appunto di vigilanza ha dichiarato la situazione grave ma dicono alle ronde fai da te ci vuole fiducia nelle forze dell'ordine a Civitella Casanova e a Civita Quana case ripulite mentre i proprietari dormono ancora penne vediamo ancora Vestina Gas Petrucci il comune ceda il 57% e in basso la vertenza Maiella Morrone sit-in alla regione dall'incontro in prefettura nuove iniziative di lotta basta promesse da Feltrinelli Caterina Chinnici al premio Borsellino il processo Maxime il PM punta sulle intercettazioni prima udienza per i Maravalle sull'adozione del piccolo ucciso dal padre rinvio al 24 novembre un'audienza che si è conclusa ieri nel pomeriggio quindi la nuova udienza è rinviata al 24 novembre vediamo anche su questo articolo il contributo video di Alfredo Primante è stata rinviata al prossimo 24 novembre la prima udienza preliminare sulla vicenda della morte del piccolo Maxime il bimbo di origine russa ucciso dal padre adottivo Massimo Maravalle tecnico informatico pescarese di 48 anni affetto da disturbo psicotico atipico la notte tra il 17 e il 18 luglio dell'anno scorso mentre il bambino dormiva nell'abitazione di via Petrarca nella prossima udienza il gruppo del tribunale di Pescara Nicola Colantonio affiderà l'incarico al perito Caterina Delzingaro per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di alcuni imputati è stato il PM Andrea Papalia a chiedere oggi di trascrivere le intercettazioni le parti non si sono opposte Maravalle è accusato di omicidio ma la perizia dello psichiatra Renato Ariatti ha stabilito che all'epoca dei fatti il tecnico informatico versava per infermità in condizioni di totale esclusione dalla capacità di intendere e volere Maravalle dunque secondo la legge non è punibile ma aspetta comunque al GUP formalizzare il proscioglimento Maravalle è inoltre accusato assieme alla moglie Patrizia Silvestri e a due medici di falso in concorso nello specifico relativamente alla dichiarazione di disponibilità presentata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila all'adozione internazionale con contestuale richiesta di relativa idoneità i coniugi avrebbero omesso di riferire e fornire notizie sui disturbi e sulla patologia psichiatrica di Maravalle i due medici secondo l'accusa avrebbero invece attestato che il padre di Maxim era esente da difetti fisici e psichici omettendo di rilevare l'esistenza di patologie Massimo Maravalle attualmente è sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata andiamo ancora avanti chieti il sopralluogo Eternit rifiuti nell'ex fonderia scatta l'inchiesta della procura blitz della forestale nel complesso industriale sono presenti quintali di cemento amianto trovati anche solventi additivi chimici prelievo di materiale dai tetti dei capannoni e per quanto riguarda le opere condotte idriche e fogne lavori per mezzo milione l'assessore di Felice cantieri aperti il 10 dicembre la riqualificazione sarà terminata il processo Angelini rischia 10 anni per il crack di Villapini e andiamo ancora avanti vediamo a Lanciano cantonieri assenteisti altri due sotto inchiesta la procura accelera dopo l'acquisizione di atti alla provincia in breve vasto riapre la restaurata cripta di San Cesario ed ancora vasto martella piove nelle aule ieri l'ispezione tecnica il consigliere regionale smargiasi intervenuti interventi chiede interventi immediati l'esponente politico ha visionato di persona i disagi nella scuola Ortona istituto tostiano chiesto un consiglio straordinario pagina dedicata a Teramo che apre con la rivoluzione impianti sportivi si volta pagina bando per affidare la gestione le spese per utenze e manutenzioni costringono il comune ad esternalizzare 5 lotti ma 2 riguardano strutture singole la pista di Atletica e Villa Pavone e vediamo ancora cronaca giudiziaria Knight e prostituzione 12 anni di condanne favoreggiamento e sfruttamento al Freeway 2 di Castellalto una ballerina sarà risarcita ed ancora fatture false dalla Piccoli Diavoli presidente e sponsor a processo in basso costretti scusate distretti a picco stato di crisi per la Val Vibrata il disastro economico e ufficiale il passaggio accelera l'accordo quadro con il ministero in 7 anni ben 500 concordati oltre 100 i fallimenti spending review biblioteca nei locali sfitti si pensa a una libreria andiamo ancora avanti sulla costa Giulianova ospedale lunedì arriva Paolucci Forza Italia ci declasserà Costantini attacca l'assessore e il sindaco Mastro Mauro ed ancora Pineto Cerrano Dorazio non molla deciderà il Consiglio di Stato l'ex presidente dell'area marina protetta davava avanti anche dopo che il Tar ha respinto le sue richieste Nereto sei giorni in festa con San Martino ancora Giulianova problemi al bus niente scuola per i disabili Alba Adriatica partito il tour promozionale in Europa ed ancora Giulianova mercante Salinello presto i lavori a Martinsicuro sottopassi chiusi circolazione in difficoltà andiamo adesso alla pagina sportiva Bruzzo Sport dal messaggero Caprari l'incontentabile la fiducia di Oddo mi ha rigenerato ma non voglio fermarmi giocare vicino alla porta mi aiuta posso fare almeno dieci gol libero da compiti difensivi sono più lucido sottoporta il crotone ripetiamo la prestazione offerta contro il Cagliari e vediamo anche sull'articolo di appunto del Pescara Calcio dopo una due giorni appunto caratterizzata dalle beghe societarie ha parlato quindi anche il giocatore vediamo il servizio sto avendo più continuità pure nel giocare fortuna la squadra c'è è forte quindi mi dà una mano sia a me che quando vado in campo riesco magari a avere quella continuità che non avevo prima davanti più sono vicino alla porta meglio è per me l'ha visto anche il mister l'ho notato dall'esterno facevo più fatica perché magari dovevo coprire tutta la fascia non riuscivo magari a arrivare lì davanti con lucidità ma questo è grazie al mister che dall'altro anno mi ha sempre espronato quindi devo ringraziare lui ma devo continuare su questa strada ho sbagliato gli anni scorsi a non segnare molti più gol ecco non mi devo fermare qui come ho già detto perché sicuramente quest'anno potrei fare molto di più e vorrei come ho già detto in inizio anno arrivare in doppia cifra ecco quindi più gioco davanti è meglio è per me ma noi dobbiamo andare in campo sapendo che siamo forti dobbiamo fare la partita noi anche se sono sopra sono primi loro non dobbiamo avere paura perché abbiamo già dimostrato col Cagliari e altre partite che ce la possiamo giocare con chiunque è fondamentale far bene Sabba e dare continuità ai risultati che adesso stanno arrivando ecco e il tecnico Oddo ritrova anche Valotti e Sansovini per la punta sarà la prima convocazione Lanciano il giorno di Marilungo dopo un anno potrebbe tornare tra i titolari Cesena fortissimo ma noi dobbiamo essere convinti ed ancora vediamo il calcio di Lega Pro L'Aquila e Iannini ritorno al futuro ed ancora nella pagina successiva il basket a due Progers stasera l'anticipo casalingo contro Brescia Ferraro ora il Roseto è diventato squadra il presidente chiede ai tifosi una presenza maggiore in centropagina per quanto riguarda il calcio di serie B di Massimo alla Juve l'accordo è fatto il giocatore ha già sostenuto le visite mediche a Torino si unirà alla primavera bianconera allenata da Fabio Grosso l'attaccante disputerà la sua prima la sua ultima gara con l'Avezzano il 15 novembre contro il Fano e torniamo al calcio di Lega Pro nel Teramo contro la Carrarese torna Amadio e con la notizia di con le notizie sportive ci fermiamo con la nostra rassegna stampa Mattino 6 termina qui ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro una buona giornata per l'attenzione e vi auguro